Hai da dirmi sul progetto, su come è stato svolto, sull'esperta che è venuta in classe? Che cosa ti è rimasto, diciamo, in particolare di questa esperienza? Che si sono fatti tre incontri, è stato bello, interessante. Sono argomenti che avete trattato anche in classe, oltre, diciamo, i momenti dei tre incontri. Questi tre incontri sono arrivati all'inizio del percorso o alla fine del percorso fatto in classe, come materia di scienze? Di sapere cos'è l'energia, le fonti rinnovabili e tutto. Bene, senti, ma poi dopo cosa, diciamo, come si è sviluppato questo lavoro? Come si è arrivati all'elaborazione del cartellone? Che si sono fatti uno, due gruppi o anche tre e ognuno, ogni gruppo doveva trovare delle frasi acrostici da poter cercare di inserire nel cartellone che poi avremmo fatto. Quindi è stato un lavoro condiviso? Sì. E come vi siete organizzati per realizzarlo? Praticamente, dopo l'ideazione, come è stato prodotto? Che i tre gruppi si sono uniti quasi tutti e abbiamo cercato di mettere insieme le idee per formare la frase che poi ha unito il nostro cartellone. Bene. Ragazzi, quindi voi che cosa vi sentite, diciamo, tutti dopo questa esperienza? Oltre, vabbè, l'aver vinto che fa sempre piacere. Ma io, diciamo, da insegnante ringrazio i genitori perché le 10.000 condivisioni sono grazie a genitori, nonni e alle famiglie. Vero? Sì, sì. Ci sono dati da fare molto? Sì. Vittoria, ti è piaciuto? Sì, tanto. Tanto? Sei felice di essere qui oggi? Sì, sono felice. Bene. E allora, forza, cosa possiamo dire? Grazie! Grazie!